buongiorno oggi preparerò il capolfiore con la pasta mista in bianco ho aggiunto soltanto un po di peperoncino rosso dolce e l'aglio in polvere e già l'ho preparato e qui e poi aggiungerò la pasta come si fa la napoletana tutto insieme invece questa pentola ho messo a bollire le vietole con un po di sale in più perché sono molto dolci e ho messo da parte la mozzarella alla julienne il pangrattato la besciamella il resto di vietole che aggiungerò alle alle coste perché le coste le farò al forno e quindi metterò un po di olio le coste poi metto la mozzarella e il pangrattato sopra con un po di un altro pochino di sale invece le le vietole le foglie le farò a parte condite così soltanto con l'olio perché ho anche problemi di salute quindi devo mangiare un po più leggero diciamo quindi preferisco far al forno bollito senza friggere niente poi farò vedere il risultato ciao